Sono Filippo Lascala, sono partner di Garnel e nella vita mi occupo di investimenti in particolare nel settore dell'agroalimentare e delle energie rinnovabili. Sono nato a Milano e ci ho vissuto quasi sempre. È una città intensa, è una città vibrante, è una città inclusiva e questo mi piace molto, ma è anche una città dove è difficile circolare, dove è difficile trovare parcheggio. Quando parlo del Biro, ai miei amici spesso dico che la sua straordinaria caratteristica è quella di poter parcheggiare praticamente dappertutto. Dico sempre che a Milano il 7 di dicembre, la sera della prima della Scala, quando la piazza è totalmente ingombrata, io potrei agevolmente parcheggiarvi. Perché Biro mi ha cambiato la vita? Mi sposto molto a Milano per lavoro e ho la certezza con Biro di avere tempi di percorrenza che sono rapidi, misurabili, di poter organizzare meglio la mia giornata e soprattutto di poter parcheggiare al primo colpo.